Nel tempo della maggioranza della prima sessione di lavori di luglio, il plenum del Consiglio provinciale ha approvato due disegni di legge della Giunta. Con 18 sì e 15 astensioni è stato approvato il disegno di legge Omnibus, modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente, del paesaggio e energia, tutela delle acque, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato. Particolarmente dibattuti gli articoli sulla determinazione del profilo genetico dei cani, la macellazione per autoconsumo nei masi e l'edilizia abitativa agevolata. Via Libera poi con 18 sì e 15 astensioni anche il disegno di legge della Giunta che armonizza le disposizioni in materia di finanza locale. Infine è stata approvata una mozione della Svop che mira a potenziare offerte di formazione e di aggiornamento professionale pubbliche e private per i profili professionali di OS e OSA.